Eccoci qua, amici e amici dicendo notizie, non ci ferma neanche il coronavirus. Siamo in questo momento all'ospedale Fornaroli di Magenta, in via Donatore di Sangue, dove documentiamo un evento storico. Allora, l'emergenza non ferma la creatività, il virus non ferma l'imprenditoria, e noi questo importa molto. Primo c'è l'emergenza sanitaria, e poi c'è anche l'emergenza economica, e bisogna aiutare le persone. E allora, questa sera nasce ufficialmente Magenta Delivery, Magenta Delivery è la piattaforma di cui vi abbiamo parlato in esclusiva nei giorni scorsi, è la prima piattaforma locale, magentadelivery.it è il sito, Magenta Delivery è la pagina Facebook, un'iniziativa avanzatissima secondo me, secondo noi, con cui le persone possono fare una cosa semplice, ordinare da mangiare, stando comodamente a casa, quindi senza andare in nessun locale, rispettando le leggi. Questa è un'interprese interessante, il primo locale che ha aderito, eccolo, guardate il grande Maurizio Fortuna, lui lo conoscete, Mr. The Kitchen, siamo già in 92, grazie mille, 92 in diretta. Ecco i primi rider, qui è un po' travesto, ma c'è Eugenio Ceriani che è un CEO tuttofare, è CEO dell'azienda, ma è anche rider. In questo momento cosa fanno i ragazzi? Portano la meravigliosa pizza del maestro Valletta, il nome di battesimo è Mauro Giovanni, Giovanni Valletta è il grande pizzaiolo di The Kitchen World, quindi Casorezzo, Trecate e Magenta, e in questo momento le pizze dove vanno? Dove ci piace di più? Vanno ai medici e agli infermieri dell'ospedale Fornaroli, ecco adesso noi chiaramente non li seguiremo, perché rispettiamo le distanze rigorosamente, allora entriamo nella cronaca, loro stanno entrando all'ospedale Fornaroli di Magenta, che è uno degli avamposti dell'eroismo medico-infermieristico, guardate il logo di Regione Lombardia, ASST Oves Milanese, la vecchia azienda ospedaliera, ci piace pensare che questa è una cosa bella, il nostro giornale online è un po' diverso dagli altri, non è migliore, è diverso, a noi piace quando la gente si dà da fare, e Magenta Delivery è la realizzazione di quello che noi predichiamo, quindi qua siamo all'ospedale, sapete tutti che il Fornaroli è in prima linea, ci sono molti degenti, malati di coronavirus ma non solo, è stato aperto il 16 marzo, lunedì scorso dalla SST, il nuovo pronto soccorso di Magenta in quella direzione, il vecchio pronto soccorso è in questa direzione, la vedete, il nuovo pronto soccorso chiaramente riuscirà a alleviare, non dico del tutto, ma a migliorare l'assistenza ai malati di Covid-19, ma a tutti gli altri, garantendo così ai medici. Già che ci siamo, siete stati eccezionali, 77 mila euro raccolti in due giorni, grazie all'appello lanciato dal comitato magentino bipartisan, il cui presidente è il dottor Giorgio Cerati, trovate tutte le informazioni su Ticino Notizie sulla pagina Emergenza Covid-19, raccolta fondi Fornaroli. 77 mila euro in due giorni, l'appello è arrivato da politici del territorio, di tutti gli schieramenti, Luca Del Gobbo, Curzio Trezzani, Paolo Razzano, Francesco Prina, il sindaco Chiara Calati, questa è una cosa bellissima, medici, politici, Antonella Pirasi Totem, tutti invitati a donare fondi all'ospedale Fornaroli. Chiaramente l'azienda consta di quattro presidi ospedalieri, Legnano, Cugiono, Magenta, Abbiategrasso, la fondazione che li raggruppa tutti e quattro, raccolta fondi per tutti. Ma noi stessi arriviamo a parlare di una cosa bellissima, che è questa. Magenta Delivery è la prima risposta alla grande emergenza sanitaria, ma anche economica. Consente, nel rispetto della legge e delle norme, di stare comodamente a casa, di ordinare una pizza, un hamburger, anche un servizio, con una piattaforma informatica di ultimissima generazione. Con una pagina Facebook, che sarà ovviamente aggiornata, voi troverete l'elenco degli esercizi aderenti e di tutti quelli che hanno attivato la convenzione. Se ci fosse qualche attività economica in ascolto, la invitiamo ad andare su magentadelivery.it o sulla pagina Facebook Magenta Delivery. su Ticino Notizia ne abbiamo parlato per primi e ci fa molto piacere, come sempre. In questo momento è inutile rammentarvi che il paesaggio è spettrale, magenta è spettrale, rispetta, direi, alla lettera, quelle che sono le disposizioni del decreto ministeriale. Questa sera, circa un'ora fa, attorno alle 19, adesso sono le 19.47, abbiamo sentito dall'assessore al welfare Giulio Gallera purtroppo dei dati in aumento, 634 casi in più a Milano sono un dato che fa riflettere. Quindi lo stare a casa, ecco, stanno tornando, ecco, attenzione, siamo in diretta e i rider, vedete, in pochissimi minuti hanno già concluso e perfezionato la consegna. Quindi sono assolutamente bardati e protetti. Adesso facciamo un minuto e mezzo di diretta. Maurizio, vieni qua, Mauri, vieni qua. Allora, Eugenio Ceriani è lui, Magenta Delivery. Eugenio, una battuta, perché Magenta Delivery? Perché no? Il ragazzo è avanti. Mauri, allora, come è andata? Siamo a distanza, che pizza avete consegnato ai... Ho fatto un mix di... Sì? Le cose che piacciono di più, Margherita, Capricciosa... Senti, The Kitchen World è partito alla grande a Magenta, prima dell'emergenza. Siete soddisfatti di questi primi mesi, ovviamente esclusi il coronavirus? No, vabbè, Magenta è una piazza, è come dire, The Corner, o Italy, cioè una piccola... Assolutamente. Il colore è rosso Magenta, cioè... Gagliate e Casorezzo vanno la grande ormai da tempo. Quindi adesso, quindi diciamolo che la pizza di The Kitchen sarà disponibile su Magenta Delivery, giusto? Adesso sì, partiamo da oggi solo con la pizza e qualche dolce, il beverage, su Magenta. Quindi puoi anche ordinare una birra, del vino. Assolutamente, quello che avete piacere. Speriamo al più presto di partire con Casorezzo, con anche un hamburger. Però questo è un bel segnale, vero? E anche su una barca... Perfetto. Ecco lo Sean Parker di Magenta, Eugenio Ceriani che si travisa. No, volevo chiedere, ma tu, scusi, lei, cioè, quando va a New York prende chele di granchio lo zenzero e poltini? Sì. Ma Sean Parker cosa ha rappresentato nella storia moderna, secondo te? Non lo so, in questo momento non lo so. E Magenta Delivery quanto tempo ha dato la tua vita impegnato negli ultimi giorni, Eugenio? Tutto il tempo. Descriviti velocemente per chi non ti conosce, in 30 secondi. Bello. Chi è Eugenio Ceriani? Bello, simpatico. Ma sei fidanzato, sei da sposare o sei libero? No, no, sono... Ok, perfetto. Cioè, nasci come... tu hai fatto Viva Magenta negli anni scorsi, giusto? Cos'era Viva Magenta? Raccontalo in pochi secondi. Era un circuito di solidarietà commerciale. Bello. Tu lavori per la multinazionale tedesca, perché sei tornato a Magenta? Ci credi a voi bene la tua città? Perché c'era bisogno di me. Ah, questo è bello. Quindi, era il più importante Sean Parker o Mark Zuckerberg nel 2004? Era? Era il più importante Sean Parker o Mark Zuckerberg nel 2004? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ma Facebook, senti, ci dicono quelli soloni che è in calo, ma a me non sembra. Tu cosa dici? Dico di sì. Che è in calo? Sì. Quanto è che ha calato oggi Facebook? Quanto è che ha calato? No, ha calato Facebook. Ma tu che lavori, tu che compra il mercato di Wall Street, compreresti un'azione Facebook oggi? Facebook 8% è salito oggi. 8% è salito? Quindi cazzo, non è proprio malaccio. Cosa dici? Eh, vabbè, ho capito, però è crollato del 70%. Uber 37%. Senti, cosa ha Magenta Delivery che gli altri non hanno? Eh, tutto. Eh, c'è, tutto. No, certo. Senti, una pizza ha anche un libro. Luca Madini mi diceva perché non consegniamo i libri? Certo, infatti consegneremo anche i libri. Consegneremo anche i libri? Sì. Ma, c'è, e poi oltre ai generi di prima necessità che cosa hai in mente? Cosa vorresti che fosse Magenta Delivery? Vorrei che fosse una piattaforma moderna, contemporanea. Perché il moderno è bello? Perché? Perché il moderno e il contemporaneo è bello? Eh, perché è nuovo, è diverso. Interessante. A te piace una cosa nuova e diversa? Sì. Ah, ho capito. Decisamente. In tutti gli ambiti della vita? In tutti gli ambiti della vita. Ah, davvero. Ma cosa ti appassiona della rete, del web? Cos'è la cosa più bella della rete? La libertà? Non lo so, non so. Non saprei cosa mi appassiona o cos'è la cosa più bella. Cos'è la cosa più bella? Eh, non so cos'è la cosa più bella. Non capisco. Non so neanche cosa mi appassiona. Domani cosa sarà Magenta Deliveri? Aperto. Bello. Quindi sei... Cioè è una specie di Guido Arari Magentino praticamente. Bravato. Che libri consigli alle persone che sono a casa? Tre libri che consiglia Eugenio Ceriani? Magenta Deliveri. La Bibbia. Sì? Ma sei credente tu? No. Ma allora perché consigli la Bibbia? Perché è una bella lettura. Ah, ho capito. Poi dopo la Bibbia? Il Corano. Eh sì, e poi i testi dei Vangelici Valdesi. Bravo, esattamente. Ah, vabbè, facciamo un romanzo, un grande romanzo. Che ti è piaciuto? La morte di Ivan Illich. Ok. Un saggio che ti è piaciuto, che hai letto ultimamente? Dai, lo so cosa vuoi farmi dire. Che cosa? Devi dire quello che vuoi te. Vuoi farmi dire 21 lezioni per il ventunesimo settembre? Perfetto, io sto leggendo perché me l'hai regalato. È molto liberale, ma magari mi piace a qualcuno. Perché un magentino deve... Guardiamo i rider eccezionali. Francesco Porati. Allora, Francesco Porati che tu hai inserito... No, cioè tu non lo sai perché da tre mesi che... Tra i dieci giovani talenti under 30 di Magenta c'è Francesco Porati. No, che sei tu. Descriviti a cui tre che non ti conoscono. Chi è Francesco Porati? Un ragazzo di 30 anni che... Anche a te piace Magenta come un genio? Sei legato alla tua città? Assolutamente sì. Ci credi? Sì, sì, sì. Sono cresciuto a Magenta e maneggio dei miei nonni. Sì. Sono di Baffalora. Certo. Ho lavorato un po' in giro per l'Italia, sempre per Generali e adesso... Fai l'assicuratore in questo momento? In questo momento stiamo facendo un lavoro... Dobbiamo andare. Per cambiare Magenta dal punto di vista... Perfetto. Eugenio, una massima per i nostri tantissimi... Una massima, una massima, una massima. Una massima. Una massima, non una minima, una massima. Combatti per sapere chi sei. Ficca ragazzi, questo è fuori come un balcone. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Una massima. Grazie ai rider. Ciao a tutti e ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Non smettiamo di vivere per paura di morire. Non smettiamo di vivere. L'ambulanza è partita. Ciao a tutti, buona serata, presto.